Piuttosto che outward looking, cioè come nel diritto internazionale classico volti alla disciplina delle relazioni esterne degli Stati. Lo sviluppo di diverse aree, si parla di regimi settoriali del diritto internazionale regolamentate da strumenti multilaterali, quindi non si inquadra più bene nello schema classico bilateralistico. L'esempio più conosciuto e evidente è quello del diritto internazionale in tema di diritti umani, ma anche altre aree come quella della protezione dell'ambiente, il diritto degli investimenti internazionali, il diritto internazionale economico, il diritto penale internazionale o il diritto internazionale umanitario partecipano di questo sviluppo. Credo che questa sia l'occasione per rendere omaggio a un grande studioso italiano, già membro eminente della Società Italiana di Diritto Internazionale. Il suo nome è stato già evocato questa mattina, Benedetto Conforti, le cui immense energie di studioso e di formatore sono state spese in gran parte proprio per affermare la necessità nella moderna società internazionale di una corretta applicazione del diritto internazionale da parte del giudice. nazionale. In gran parte a lui si deve la risoluzione adottata nel 1983 dall'Austituto Duarte Internazionale a Milano, la risoluzione che portava il titolo L'attività del giudice interno e le relazioni internazionali dello Stato, un documento nel quale vengono dettagliate le regole alle quali l'attività del giudice interno dell'applicazione del diritto internazionale dovrebbe essere informata e nel quale si insiste soprattutto sulla necessità di assicurare al giudice la necessaria indipendenza dall'esecutivo nel, per così dire, maneggiare le sue norme, sia sotto il profilo dell'interpretazione, sia sotto il profilo delle necessarie verifiche fattuali, anche queste da compiersi in piena indipendenza. Ora, dal punto di vista del diritto internazionale, le sentenze dei giudici nazionali possono essere considerate in armonia con gli obblighi internazionali dello Stato, ovvero in contrasto con questi. In questo caso, evidentemente, una sentenza impegna la responsabilità dello Stato e può dar luogo ad una controversia internazionale. Ma non si deve dimenticare che le sentenze dei giudici nazionali sono elementi della prassi degli Stati e anche, o anche in talunni casi, espressione dell'opinio iuris degli Stati, circa la portata dei loro obblighi internazionali. E in questo modo possono contribuire non solo alla formazione del diritto consuetudinario, ma anche alla definizione della corretta interpretazione dei trattati. In effetti, anche una sentenza che meno apparentemente violi il diritto internazionale potrebbe condurre ad un'evoluzione dello stesso diritto. Sul piano del diritto consuetudinario, una violazione da parte di una Corte nazionale potrebbe dare inizio alla formazione di una nuova regola consuetudinaria o alla modifica di una norma che già esiste. Mentre sul piano del diritto pattizio, una violazione potrebbe trasformarsi in una pratica susseguente che fissa l'accordo delle parti sull'interpretazione del trattato, secondo l'articolo 31,3, lettera B della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. O anche condurre alla desuetudine o all'obsolescenza del trattato. Ora, non so se è parlato questa mattina di monismo e dualismo, non so se le relazioni affronteranno questa antinomia e personalmente non credo che queste categorie siano di grande aiuto. Ecco, nessun sistema è pienamente monista o pienamente dualista. Il sistema italiano, che è certamente formalmente dualista perché richiede la trasformazione in diritto interno del diritto internazionale, internazionale, in realtà funziona largamente di fatto come un sistema monista perché per il diritto consulordinario, sappiamo, si è provveduto una volta per tutte con l'articolo 10, primo comma, della Costituzione. Per il diritto pattizio, quello che era la forma di adattamento speciale che è stata ricordata stamattina dal professor Cannizzaro, è divenuta la regola per cui il modo normale di dare esecuzione al trattato, mediante l'ordine di esecuzione, che evidentemente procede mediante rinvio e quindi mette l'interprete interno e quindi il giudice direttamente in contatto con la norma internazionale. Ecco, dicevo delle possibili antinomie tra norme internazionali ed europee e norme nazionali. Credo che le relazioni che stiamo per ascoltare concederanno largo spazio a questi temi e quindi alle difficoltà con le quali il giudice interno è confrontato, agli strumenti elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per venirne a capo. E ciò specialmente con riguardo al diritto europeo, sia il diritto dell'Unione, sia il diritto cosiddetto convenzionale, cioè il diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il tema ha impegnato a lungo negli ultimi decenni le giurisdizioni e gli studiosi. Ecco, sono sicuro che al termine di questa sessione avremo le idee più chiare. Ecco, detto questo, credo che possiamo iniziare. È mio dovere ricordare ai relatori che purtroppo il nostro tempo è limitato, per cui li prego di contenersi nel tempo che è stato fissato, cioè 20 minuti ciascuno. E il primo oratore è il professor Roberto Baratta dell'Università di Macerata, che parlerà dell'effetto diretto nei giudizi interni delle norme internazionali self-executing. Professor Baratta, prego. Grazie.